Musica Approvato il bilancio della Regione In ricordo delle vittime delle mafie Eumodel per capire l'Europa Il Consiglio regionale si è riunito il 24, il 30 e il 31 marzo Per esaminare il bilancio della Regione Piemonte 2016-2018 Il documento è stato approvato a maggioranza Con il contingentamento dei tempi nella serata del 31 marzo In copertina Il Consiglio regionale ha approvato il 31 marzo a maggioranza Il bilancio di previsione finanziaria 2016-2018 Il primo redatto ai sensi della legge Che impone l'equilibrio di bilancio Ampio articolato è il dibattito in aula Con l'esame di oltre 200 emendamenti Presentati per lo più dalle opposizioni Collegati al provvedimento Sono stati approvati anche diversi documenti di indirizzo Oltre 7.000 persone hanno partecipato il 21 marzo a Torino Alla ventunesima giornata della memoria e dell'impegno In ricordo delle vittime innocenti delle mafie L'iniziativa realizzata con il contributo del Consiglio regionale Attraverso l'osservatorio sull'usura Si è svolta in collegamento con la manifestazione nazionale a Messina Con il presidente e il vicepresidente di maggioranza del Consiglio Anche molti consiglieri regionali E il vicepresidente della commissione speciale di indagine per la legalità Nel pomeriggio Palazzo Lascaris ha ospitato un workshop Su lavoro, diritti e prospettive Organizzato da Libera Piemonte Siamo al ventunesimo anno, presidente Una battaglia sempre attuale La battaglia è sempre attuale Cambia, in questi anni è cambiata Ci sono stati dei risultati importanti Ma comunque c'è ancora tanta strada da fare Ed è per questo che il 21 marzo deve essere un giorno di memoria Ma soprattutto un giorno di impegno Una simulazione delle attività di Parlamento europeo E Consiglio dell'Unione europea Per imparare come si decide a Bruxelles E questo è l'obiettivo dell'iniziativa EUMO del Torino Promossa dalla consulta regionale europea E presentata a Palazzo Lascaris Circa 90 gli studenti provenienti da tutta Italia Che hanno partecipato al progetto Segnale concreto dell'interesse maturato dal mondo giovanile Nei confronti delle tematiche europee